Siamo in Curva Nord con un tifoso atalantino, come ti chiami? Alessandro Allora Alessandro, cosa ne pensi di questa vicenda degli spot-hò? Gli spot-hò sono la base del calcio, devono esserci Non bisogna cadere nel razzismo ovviamente, ma finché sono spot-hò calcistici E' giusto che ci siano, e devono esserci l'eterno Cosa ne pensi allora di questa partita contro il Napoli? Che è difficile Sportivamente, parlando per i tifosi Dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto Cioè? Supportare l'Atalanta, insultare anche il Napoli Ma senza spociare nel razzismo Perfetto, grazie a lei Niente Andiamo qui in Curva Nord con un grande tifoso atalantino, come ti chiami? Gianluigi Gianluigi, allora cosa ne pensi di questa vicenda degli spot-hò contro il Napoli? Sempre esistito Le dichiarazioni di Ancelotti? Cori contro, sempre esistiti, sempre esisteranno Quindi secondo te è sbagliato sospendere la partita? Sbagliatissimo, perché se loro mi chiamano Bergamasco-Pontadino, che è differente, eccetera, non volentano colera Giusto E poi spiegaci un po' come vivi questa partita? A 300 all'ora Grazie 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 Grazie